Siamo andati Gesù e Maria. Perdonatevi fratele e sorelle se faccio una piccola raccomandazione, perché già a Messa precedente c'è stato qualche piccolo incidente, vi prego di controllare i telefonini, che siamo spenti o silenziosi, perché durante la celebrazione della Santa Missa bisogna stare in contatto con il Signore, con il resto del mondo, non udire suoni che disturbano, anche perché purtroppo il diavolo va sempre dispetto. Ieri ci hanno sfasciato le campane con un fulgine proprio il giorno di Pasqua e stamattina quando suonarono i telefonini, la Messa delle Nove, sapete quando? Sempre quello che succede, quando stavo alzando l'ostia consagrata e quando stavo consagrando il calice. Quindi purtroppo combattiamo contro le misi sleali, quindi cerchiamo di togliergli le occasioni di peccato, quindi vi prego controllate bene i vostri dispositivi vestiti al silenziale. Bene detto questo, adesso ci rallegriamo enormemente con tutta la Santa Chiesa per il giorno di Pasqua, il trionfo di Gesù nella risurrezione. Come hai già detto nell'Omelia precedente, io vorrei non soltanto ribadire il contenuto fondamentale dell'evento della risurrezione, che è l'attestazione suprema della divinità di Cristo. Nessuno torna dal cimitero dopo al terzo giorno della morte risorgendo per virtù propria una vita che non può più morire se non Dio fatto uomo. E questo è il cuore della nostra fede. Noi siamo cristiani perché crediamo non semplicemente che Gesù è un grande uomo, è un grande profeta, è un santo uomo, è un carismatico. Ma crediamo che il figlio di Dio, venuto sulla terra e morto sulla croce della nostra salvezza, è risolto per la nostra giustificazione, una vita che non morirà mai più e con una partecipazione perfetta, la sua vittoria che tutti i gomini avranno, come diremo tra poco nel credo, e spero che tutti ci crediate, nella risurrezione dei morti. Il credo finisce, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dopo la consagrazione diremo, annunziamo il tuo morto, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua verità e quando Cristo tornerà nella gloria, questo nostro corpo, lo stesso che ci abbiamo adesso, risorgerà per la vita eterna, se abbiamo salvato la nostra anima, peraltro, che non è il caso di parlare di queste cose brutte il giorno di Pasqua, perché sono possibili, se disgraziatamente non avessimo conseguito la meta della nostra fede, che è la salvezza delle anime. Ora, l'Apostolo San Paolo, nella seconda lettura, ci ha spiegato però come l'evento della risurrezione di Gesù viene partecipato da noi i mortali, cioè Gesù è morto e risolto non solo per se stesso, ma questo è un evento salvifico. Che significa? Significa che noi in qualche modo ne dobbiamo partecipare, altrimenti è una cosa che rimane lì, che non coinvolge la mia vita, ma le cose che attengono la santa fede sono cose che coinvolgono la nostra vita e la trasformano. Cosa ci ha ricordato San Paolo? Sentite bene. Brevissima lettura, ma molto significativa. Fratelli, se voi siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, rivolgere il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Cioè, oggi è Pasqua, io sto partecipando nel mistero di risurrezione del Signore, da che cosa me ne accorgo? Dove sono rivolti i miei pensieri? Dove si trova al mio cuore? Sono tutto intento alle cose della terra, o peggio ancora, a quelle cose della terra che dispiacciono al Signore, quali sono, secondo l'insegnamento di Santa Madre Chiesa e Peccati, o penso ad altro? Dove è concentrato il mio cuore? Questo per esempio lo si vede, io raccomandavo domenica scorsa, che durante la settimana santa il tempo sarebbe bene che si fermasse e si dovrebbe fermare il mondo intero. Come ho passato questi giorni? Ecco, sono giorni dove sono su queste cose grosse, perché bene il discorso, il Figlio di Dio è morto per noi, l'ho fatto ogni giorno che era a Chiesa, mi direi di fare, ho fatto esperienza dalle cariche, ho cercato di stare un po' in silenzio, ho spento la televisione, ho spento i computer, ho cercato di dire, uè, il Figlio di Dio, fatto uomo per me, oggi è morto, una morte orribile, orrenda, per me, questo mi annuncia la Chiesa. Che pensi io di Nazionale? Non importa niente, me lo lascio scivolare addosso. Ho trovato questa settimana un po' di tempo, come la Chiesa ci chiede, per fare una buona confessione di Pasqua, fatta bene, non solo farla tanto per farla. Voi sapete che la Chiesa ci ricorda che a Pasqua bisogna fare il cosiddetto precetto pasquale, cioè confesserai tutti i tuoi peccati davanti al Signore, bene e tutti, e ti farai la comunione. Perché se non ho trovato tempo di fare una buona confessione, oggi non mi posso fare la comunione. E, capite, con la confessione si partecipa alla morte di Gesù e con la comunione alla sua risurrezione. Ma chi non passa per primo non può passare per il secondo. Sapete che la Chiesa ci insegna sempre quando dobbiamo fare la comunione, dobbiamo essere in grazia di Dio, cioè dobbiamo essersi confessati. Perché? Perché c'è passione e morte di nostro Signore, nessuno si diverte, credo, quando si va a confessare. Confessarsi è un gesto di umiltà, è un gesto di ritorno di noi stessi, è un gesto in cui il nostro io muore un pochino, perché devo riconoscermi peccatore, devo chiedere al Signore la misericordia, devo riconoscere che c'è qualcosa nella vita che devo cambiare, dicevo nell'omelia precedente. Se no facciamo come i farisei, che erano i pochi che pensavano di essere giusti e che loro vengono da un po' bene, sono gli altri che devono cambiare, non devo cambiare io. Il Papa suona in continuazione su questo e fa bene, d'accordo? Fa bene soprattutto con quelli che sono vicini al Signore, quelli che fanno parte del suo popolo, predi e comprensi, d'accordo? E tutti quanti noi abbiamo bisogno di crescere, di convertirci, nessuno di noi è arrivato, nessuno di noi è apposto davanti a Gesù. Chi di noi è capace di fare quello che Gesù ha fatto? Chi di noi è capace di morire in croce? Chi di noi è capace di perdonare chi gli fa del male? Chi di noi, se avesse la capacità come diceva lui, di fulminare tutti quelli che stavano torturando, non l'avrebbe fatto? Guardate che Gesù poteva fulminare tutti quanti, poteva fulminare tutti, c'è scritto un articolo su un settimana di Padre Piazza un giorno, Gesù poteva fulminare, quando lo prendevano in giro dicevano tu scendi dalla croce di essere figlio di Dio, guardate che Gesù se avesse voluto scendeva dalla croce. Se qualcuno di noi non crede che se Gesù avesse voluto scendeva dalla croce, vuol dire che non crede che Gesù questo è Dio, perché Dio può fare quello che vuole, basta un atto della sua volontà, basta un atto della sua volontà e fulminava tutti quanti e scendeva e diceva e adesso che vogliamo fare? Che facciamo? Che vogliamo fare? E non l'ha fatto, non perché non poteva, ma perché non voleva perché ha scelto, anziché scendere dalla croce e fare la sua dimostrazione di forza, di soffrire, di morire per quelli che lo stavano torturando. C'è qualcuno di noi che è capace di fare questo, alzi la mano e poi vado a confessare una buccia. Io no, quindi tutti quanti noi abbiamo da convertirci, non ci arriviamo con una maltezza così grande, quindi guai a chi si sente a posto. Allora, San Paolo conclude, bene, chi siamo noi che abbiamo partecipato alla risurrezione di Gesù? Dice queste parole, voi siete morti, molti, non sono morto, ancora vivo, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Cioè, cosa vuol dire essere morti? Essere morti vuol dire che la vita passata, la vita, tra virgolette, adesso vi leggerò un passo sui pelli, però trova gli scritti di Luisa Piccarretta, la vita trascorsa secondo logiche umani, secondo criteri umani, o lontani da Dio, non c'è più. Io sono un'altra persona. Allora, come feci anche a Natale, concluderei queste meditazioni, queste suggestioni, brevi, come il Santo Padre uguale, se non ci tira le orecchie, con una lettura stupenda. Se vi ricordate anche a Natale, io ho chiesto aiuto a questa serva del Dio, questa donna straordinaria, che è in corso il processo di verificazione, che è Luisa Piccarretta, che ha avuto delle bellissime rivelazioni da parte del Signore sulla vita splendida che si può vivere quando si entra nella sua volontà. E qui c'è Gesù in persona, con delle parole che se ascoltate con attenzione sicuramente non le ricorderete, uscirete dalla Chiesa e ve le ricordate, sicuro, 100%, descrive che cos'è la sua risurrezione e quali effetti mirabili produce. Io ogni volta che le reggo, mi vengono semplicemente i brividi, specialmente se la grazia del Signore ci fa appunto la grazia di poterne partecipare. Sentite cosa dice Gesù. Questo scritto è tratto dal 36esimo volume dell'opera di Luisa che si chiama Il Libro di Cielo, ed è del 20 aprile del 1938, non tantissimo tempo fa, meno di 100 anni lui dice, dopo ciò continuavo il mio giro in tutto ciò che fece nostro Signore sulla terra e mi sono fermata nell'atto della risurrezione. Che trionfo, che gloria, il Cielo si riversò sulla terra per essere spettatore di una gloria così grande ed il mio amato Gesù ha ripreso il suo dire. Qui, virgolette, chi parla è il nostro Signore. Figlia mia, nella mia risurrezione veniva costituito il diritto di risorgere in me a nuova vita per tutte le creature. Tutti possiamo risorgere a nuova vita in Gesù. Era la conferma, il sigillo di tutta la mia vita, delle mie opere, delle mie parole. E se venne in terra fu per darmi a tutti e a ciascuno come vita che loro appartenesse. Una parola che Gesù adesso pronuncia a me e a te. Sono venuto sulla terra per darmi a tutti e a ciascuno di quelli che mi desiderano e mi vogliono come vita che loro appartenesse. La mia risurrezione era il trionfo di tutti e la nuova conquista che tutti facevano da colui che era morto per tutti, per dar loro vita e farli risorgere nella mia stessa risurrezione. Adesso ascoltate qui. Ma vuoi sapere, tu, dove consiste la vera risurrezione della creatura? Non alla fine dei giorni, ma mentre ancora vive sulla terra. Chi vive nella mia volontà risorge alla luce e può dire, la mia notte è finita, la notte non c'è più. Risorge nell'amore del suo creatore, in modo che non esiste più per lei il freddo, le nevi, ma sente il sorriso della prima vera celeste. Risorge alla santità, la quale mette a preceditosa fuga le debolezze, le misere, le passioni. Risorge a tutto ciò che è cielo. E dite le parole di San Paolo. Se siete risolti con Cristo, pensate alle cose di assurdo. E se guarda la terra, il cielo e il sole, noi li guardiamo, li guardiamo bene la terra, il cielo e il sole, ma li guarda per trovare le opere del suo creatore. Guardo il cielo e dico, grazie Signore che l'hai creato. Guardo il sole e dico, che bello, sei riflesso nella luce del Signore risorto. Sento gli uccelli cantare e dico, che belle tonalità di voce che hai messo, Signore, in queste creature che mi addietrano l'orecchio e che mi portano il tuo piano. E quindi guarda le opere del suo creatore per avere occasione di narrarvi la sua gloria e la sua lunga storia d'amore. Dio ha fatto una lunga storia d'amore con voi e gli eventi di questi giorni ne sono in culmine. Perciò chi vive nel mio volere, continua sempre Gesù, può dire, come disse l'angelo alle mie donne quando andavo al sepolcro, l'abbiamo sentito, la mia volontà non è più con me, è risolta nella divina volontà. E se le circostanze della vita, le occasioni, le pene circondano la creatura, come cercando la sua volontà, può rispondere, la mia volontà è risolta, non è più con me, non ho più il mio potere, ho in cambio la divina volontà e con la sua luce voglio investire tutto ciò che mi circonda, circostanze, pene per formarmi, tante conquiste divine. Chi vive nel nostro volere trova la vita negli atti del suo Gesù e corre sempre in essa la nostra volontà operante, conquistante e trionfante, ci dà tale gloria che il cielo non può contenere. Vivi sempre nel nostro volere, non uscirne già mai, se vuoi essere il nostro trionfo e la nostra gloria. Io vi auguro che la vostra Pasqua sia simile a questa e con la Madonna che ha sempre vissuto la gioia pasquale di rendere una lina volontà, auguro me ne innova a tutti e vi auguro davvero una santa Pasqua nella gioia del Signore risultato. Siamo orati Gesù e Maria. Siamo orati Gesù e Maria.